24 imputati, tra cui imprenditori del distretto conciario di Santa Croce sull'Arno e di quello Orofo a Retino, una famiglia calabrese considerata vicino all'Andrangheta, pezzi della politica locale e regionale a cui si aggiungono sei società, e una lunga serie di accuse come la corruzione e l'associazione per delinquere finalizzata al traffico e lecito di rifiuti. La Procura di Firenze ha così chiesto il rinvio a giudizio per i protagonisti della cosiddetta inchiesta sul Cheu, i fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli delle fabbriche di Santa Croce sull'Arno. Il caso scoppiò nell'aprile 2021 con i primi arresti, al centro delle indagini le ceneri inquinanti prodotte dalla combustione dei fanghi delle concerie e lo smaltimento non corretto di queste scorie avrebbe determinato risparmi considerevoli in termini economici. Anche alcuni dirigenti delle aziende del comparto chimico Orofo di Arezzo sarebbero finiti al centro dell'inchiesta in quanto ritenuti coinvolti nello smaltimento illecito dei rifiuti inquinanti finiti in un impianto di bucine, quello delle Rose, recentemente messo in sicurezza. L'udienza si aprirà il 12 aprile davanti al gruppo Gianluca Mancuso.